Piemonte, eliminiamo il Piemonte, però Rossi, Rossi giallo, Antonio prende un giallo, attenzione perché è la prossima falsa partenza di rischio della scolipica, adesso vi girate, adesso signori, riporta le regole, non partite prima, mi raccomando non partite prima, allora, Gabriele facciamo così, allora vi do il girato di pure, dovrete aspettare il pisco, non faccio tre due, io vi do o latte o cappuccino o cioccolato, ma il pisco sarà il suo, allora vi do il il cappuccino, via 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 oh le, arrivò il mordetto per ultimo, ciao ecco l'ora